Somministrava il vaccino anti-covid, ma la dose, piuttosto che nel corpo dell'utente, finiva dritto nei rifiuti. Un gioco di prestigio di cui però la polizia ha scoperto il trucco. Un infermiere anconetano di 51 anni è stato arrestato in un hub vaccinale del capoluogo marchigiano, aveva messo su un sistema che permetteva ai suoi clienti, tra cui i due abruzzesi, di ottenere illecitamente il Green Pass. La certificazione verde, ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione, è divenuta sulla scorta degli ultimi decreti indispensabile per raffruire di ogni luogo di socialità e cultura. Oggi è necessaria pure per consumare all'aperto, per lavorare, perfino per andare in giro anche in caso di contatto stretto con un positivo. Alcuni irriducibili, piuttosto che vaccinarsi o ritirarsi dalla società, preferiscono pagare per un certificato falso o illecitamente ottenuto. L'infermiere anconetano riceveva 300 euro per ogni falso vaccino, sostiene la polizia, prezzo poi alzato a 450. Quattro complici, arrestati insieme all'infermiere, facevano da intermediari con i clienti, circa 50 persone, tra cui un 31enne di Pescara e una 32enne di Montesilvano, ora sottoposti all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Le forze dell'ordine hanno proceduto a 24 perquisizioni personali e locali e al sequestro di 18.000 euro, ritenuti provento del business. Smontato così un sistema che attirava clienti da tutta Italia. L'indagine è partita un mese fa a seguito della denuncia di un medico del lab vaccinale che aveva notato alcune anomalie. L'infermiere ha provato a corromperlo, ma il medico ha deciso di riferire tutto alle forze dell'ordine. Da lì sono scattate le intercettazioni e la videosorveglianza, che hanno permesso di appurare il tutto e di procedere, ieri, all'arresto. Le accuse per l'infermiere non sono state formalizzate, ma probabilmente i reati contestati sono quelli di corruzione, peculato e forse truffa ai danni dello Stato per lo spreco dei vaccini. Quello marchigiano non è di certo il primo caso del genere, dai green pass contraffatti ottenuti sul web alle finte vaccinazioni, dall'utilizzo del certificato altrui fino ai falsi positivi. Fatta la legge si fa presto a trovare l'inganno per aggirare una misura politica sempre più stringente.